Spacciava con estrema disinvoltura tra i giardini e palazzi, tra via Pasqui e via Cecchi in zona Saione. Un'attività del tutto illecita alla luce del sole, quella messa su da un giovanissimo tunisino appena a 17enne che ha destato non pochi sospetti tra i residenti ma anche agli investigatori della squadra mobile che da qualche giorno erano sulle sue tracce. Ieri pomeriggio così è scaltato il blitz dopo aver notato un'accessione di sostanze stupefacenti ad un noto tossico dipendente a retino, gli agenti hanno tentato di bloccare il giovane che però si è dato subito alla fuga. Dopo l'inseguimento a piedi durato qualche centinaio di metri, il giovane si è sbarazzato di 18 dosi di eroina e cocaina che sono state comunque recuperate dagli agenti. Il ragazzo, sbarcato a Lampedusa da appena due mesi, è stato bloccato in via Cecchi dove ha provato a spintonare i poliziotti nel tentativo di continuare la sua fuga. È stato così denunciato a piede libero per resistenza e spaccio di stupefacenti, reati per i quali non è consentito l'arresto in fragranza per i minorenni. Dopo le formalità di rito, il giovane è stato così affidato ad una comunità educativa per minorenni.